quindi benvenuti a questo secondo video dedicato al rischio di investimento all'interno delle aziende e qui con noi anche questa volta Matteo Turuani che prima di tutto ringrazio per la disponibilità e direi Matteo continuiamo da dove eravamo arrivati avevamo parlato delle normative in questo video ci vuoi parlare anche di soluzioni esatto mentre la prima parte di questo nostro appuntamento è stato dedicato a creare in qualche modo delle basi basi relative alla normativa specifica alle norme tecniche giusto per fare un minimo di riassunto da quanto abbiamo illustrato la settimana scorsa abbiamo ben poco a livello di normativa praticamente nulla a livello di norme tecniche abbiamo invece diciamo diversi strumenti che sono sostanzialmente le linee guida quindi linee guida in qualche modo diffuse dalle ASL principalmente in ambito di piani mirati per la prevenzione e quindi di fatto diamo per assodato sostanzialmente come se fossero una serie di competenze che abbiamo acquisito di soluzioni tecniche. Oggi si dedichiamo invece a un aspetto che è quello delle soluzioni tecniche cioè dell'identificare e dell'illustrare un ventaglio di soluzioni ai diciamo più o meno risolutive dei rischi da investimento che abbiamo in qualche modo visto la volta scorsa. Faccio un'anticipazione e tutte le soluzioni tecniche che vedete in qualche modo le ho sperimentate quasi tutte quindi la cosa interessante è provare un po' a capire insieme pregi e difetti. Ecco se la volta scorsa ci siamo un po' addentrati in aspetti appunto abbiamo letto anche dei testi di legge oggi invece vi proporrò un po' di soluzioni esplicitandovi magari per esperienza mia pregi e difetti delle singole soluzioni. Partirei come punto di raccordo questa domanda, ma quando è necessario adottare misure di prevenzione e di protezione? La domanda che per noi tecnici è piuttosto banale, però a me piacciono le cose banali, sono affascinato dalle cose banali. Quando dalla valutazione dei rischi o dal DURRI emergono rischi di investimento trascurabili? Perché ho specificato anche dal DURRI? Perché ci sono delle realtà dove di fatto i rischi di investimento non riguardano tanto il personale dell'azienda direttamente per lo meno, ma quanto sono questi rischi di investimento sono introdotti da soggetti terzi. Quindi io magari posso essere un'azienda dove questo rischio è per lo più trascurabile però mi trovo a dover gestire un appalto che va a introdurre questo rischio di investimento. Quindi di fatto è da prendere in considerazione. Quindi nel momento in cui ho dei rischi non trascurabili devo pensare a una serie di misure che sappiamo bene essere di prevenzione e di protezione. O più in generale, quando sono presenti possibili interferenze tra persone e mezzi. Questa sera parleremo principalmente di interferenze interne e di soluzioni per le problematiche dell'investimento interno. Non parleremo in qualche modo di segnalità esterna e di gestione di questo rischio all'esterno dell'edificio. Ci provo Fabio, se vi interessa l'argomento può credersi che possiamo pensare a un ulteriore momento, però me lo dovete dire voi. Ok, come tutti voi sapete le misure che si adottano in qualche modo per ridurre il rischio fanno parte principalmente di due macro-categorie, cioè delle procedure di carattere procedurale ed organizzativo e delle procedure tecniche. Quindi delle procedure che vogliono agire sul modo di lavorare, quindi o sull'aspetto comportamentale o sull'aspetto della disciplina ed adottare in un determinato contesto lavorativo, oppure delle misure, come vedremo fra un secondo, il redigere un piano di viabilità che è sì un insieme di regole, ma è anche un documento di programmazione che va un po' oltre il dare le regole, ma vuole anche esplicitare il modo con cui si gestisce il problema, insomma delle misure procedurali e organizzative, parallelamente delle misure tecniche. Partiamo dalle misure procedurali e poi chiudere l'incontro della serata sulle misure tecniche. Vi anticipo che non esiste una misura prevalente sull'altra a livello di efficacia. Tutto quello che vi presenterò stasera in una realtà in qualche modo va integrato a seconda di tanti fattori, poi dopo ne parleremo. Innanzitutto perché parlare di piano di viabilità? Il piano di viabilità non è un documento citato in nessuna norma, in nessuna norma tecnica, in nessun testo legislativo. Mi viene una battuta di raccordo con quello che dicevamo la volta scorsa, il problema è che ve l'hanno citato un ASL in una fase di prescrizione. Quindi non troveremo mai il termine esatto piano di viabilità, procedura di viabilità, però di fatto se ho un rischio di investimento io devo avere anche, chiamiamolo un documento che in qualche modo mi esplichi regole, strategie, insomma che cosa io intendo fare per gestire questo rischio. Non è fondamentale averlo, però è uno strumento molto comodo, soprattutto uno strumento molto comodo quando questo strumento deve essere comunicato ad altri. Sto pensando ad esempio nelle realtà dove i rischi di investimento vengono introdotti da altri soggetti, come le realtà dove ci sono gli appalti. Un piano di viabilità è uno strumento molto operativo che sostanzialmente contiene le misure e le strategie che io adotto per ridurre i rischi di interferenza. In particolar modo stabilisce regole di circolazione per persone, per mezzi e per tutti i fruttori del mio spazio. In più stabilisce le modalità con le quali io mantengo efficiente queste misure. Questo è importante. Ve lo scrivo sulla slide perché per mia esperienza ho capito che è un punto da esplicitare in un documento. Cioè non basta dire identifico un percorso, identifico delle corsie, decido che la mia segnaletica deve essere di colore giallo, larga 10 cm, ma devo anche mettere nero su bianco una strategia per mantenere l'inefficienza. Perché altrimenti la mancanza in questo ultimo punto fa cadere la sussistenza del nostro intero piano di viabilità. Come si costruisce questo piano? Innanzitutto dall'osservazione di ciò che succede nel mio reparto. produttivo. Quindi diamo per scontato che nella mia azienda sussiste questo rischio, quindi di investimento. Immagino ad esempio in un'azienda produttiva il mio reparto produzione terminerà con una zona di interfaccia magari con una funzione logistica o con un magazzino. Il mio poteriale che ho prodotto in qualche modo dovrò o portarlo su un magazzino o consegnarlo al cliente. E quindi devo trovarmi a gestire questo rischio. Cosa devo fare innanzitutto? Devo capire i flussi delle persone e i flussi dei mezzi che muovono i materiali. Quindi devo andare a chiarirmi come i flussi logistici delle merci e i flussi delle persone in qualche modo si muovono nel mio magazzino. Una volta fatto questo, io devo identificare, io ho chiamato delle aree critiche per il rischio di investimento. Cioè, ad esempio, delle aree dove questo rischio è oggettivamente maggiore che in altri punti. Sto pensando ad esempio a un fine linea dove la mia macchina magari ha un bel pallettezzatore, mi crea un bancale pronto per essere caricato e trasportato, però in quel momento io ho anche un operatore che magari fa l'etichettatura di questo bancale. Beh, questa è un'area critica perché è un'area dove io non posso evitare l'interferenza e in qualche modo dovrò pensare dei sistemi per ridurre i rischi. Una volta identificate queste aree critiche, quindi queste aree dove sostanzialmente io ho dei pedoni da proteggere, questo è la logica, io devo pensare che strategie adottare ad esempio per la loro protezione. Ad esempio, vi do già due soluzioni, un'area con costante presenza di persone deve essere protetta ad esempio da una barriera fisica, da un sistema che in qualche modo separa fisicamente, protegga dal rischio di investimento, però attraverso attraverso, non una procedura, attraverso un riparo. Ancora meglio se un riparo di quelli di cui parlavamo la settimana scorsa, che è anche in qualche modo valutato e scelto sulla base delle effettive energie presenti e quindi con una presunzione di efficacia in caso di urto con un mezzo. E quindi questo è un principio alla base, cioè delle aree di lavoro con presenza di persone, se possibile devono essere separate e questo è il criterio alla base di tutto più sicuro. Non posso separarlo? Bene, definirò le regole attraverso un sistema se volete segnaletico. La segnaletica capita bene che però è già un sistema meno forte del posizionare una barriera. Una segnaletica va ad esempio banalmente rispettata. Se la segnaletica non la rispetto, la rendo vana. Se una protezione io non la rispetto, tra virgolette, la protezione funziona lo stesso fino a un certo punto. Una volta quindi che ho definito i miei percorsi, con che criterio? L'abbiamo parlato la volta scorsa, la righezza del mezzo, uno spazio diciamo che a seconda della norma che sceglierò io sarà più o meno ampio, comunque andare a dimensionare queste vie, andando a scegliere se su queste vie io prevedo ad esempio per i mezzi un percorso a un senso di marcia o a doppio senso di marcia. Queste sono scelte che devo in qualche modo fare, perché sulla base di queste scelte poi io deciderò che diciamo a scegliere prendere. Una volta fatto questo, definisco le regole delle diverse aree. Quindi nella mia area di circolazione muletti, il carrellista, che regole ha? Che potrò parlare di tutto ciò che voglio, di velocità, di viechi, insomma, no, delle regole. Lo stesso farò per il pedone, quindi dirò, pedone, in che area ti puoi muovere? Come le riconosci? Che cosa puoi fare in queste aree? Che cosa invece in queste aree tu non puoi fare? Ok, benissimo. La stessa cosa la potrò fare per un visitatore, ad esempio, la potrò fare per tutti quei soggetti che in qualche modo vengono a contatto, diciamo, che non sono esposti con questo rischio. Una volta fatto questo, nel mio piano di viabilità, mi pongo un problema, alla fine. Come posso informare, formare e addestrare le mie risorse oppure i miei avventori rispetto a questo rischio? Adesso volevo passare un po' questi punti nel dettaglio. Primo punto, abbiamo adesso l'identificazione delle aree. Io devo scegliere, guardando il layout, la destinazione d'uso delle determinate aree, scegliendo un modo per identificarle. Cioè, se io decido che è un'area pedonale, devo trovare un modo, devo scrivere una modalità con cui io identificherò che qual è un'area pedonale. Questo servirà a chi? Al pedone, servirà al carellista, servirà al visitatore. Quindi do delle regole. Sceglierò come segnalarle, che tipo di segnaletica realizzare, oppure quali sistemi di protezione le mie barriere, deciderò di installare a maggior tutela e a maggior protezione. Questo ad esempio è un esempio di questo, è uno stralcio che ho preso da un piano di abilità, dove vado a dire che le mie aree, ad esempio, riservate alla circolazione dei carelli elevatori, sono delimitate da una segnaletica che decido io che è orizzontale, decido io che è di colore giallo o bianco. Scrivere giallo o bianco non è ideale, dovrei scegliere, ma giallo o bianco sono identificate da pettogrammi di colore giallo o sfondo blu, perché mi piacciono i colori, non lo so, perché sono i colori del brand, perché sono i colori che risaltano di più sullo sfondo, e magari gli metto anche un bel disegnino e una foto. Una volta identificate le aree, definisco le regole che vigono all'interno delle singole aree. Quindi, una volta chiamato quello di circolazione di carelli elevatori, o zona di circolazione dei pedoni, dovrò scrivere come dovranno comportarsi, che regole dovranno adottare, pedoni o carelli elevatori. Ok? E quindi che regole adottare? Una volta fatto questo, dicevamo esplicitare le strategie che utilizzo per comunicare queste informazioni. Allora, le strategie che funzionano meglio, no? Sono comunicazioni brevi ed efficaci. Quindi, nessuno ci vieta di comunicare ai nostri lavoratori un piano di viabilità, certamente mandandogli una mail, fantastico. Ancora meglio, magari, estraendo da questo piano di viabilità, delle semplici istruzioni, quelle che vanno tanto di modo adesso, le one point ad esempio, cioè dei sistemi visuali semplici, col quale si comunicano le regole e quanto abbiamo detto prima. Un'ultima cosa importantissima, in questo piano di viabilità, che è anche un nostro strumento per gestire questo rischio di investimento, io andrò anche a stabilire che strategie utilizzerò per garantire la manutenzione. Io ho scritto della segnaletica, perché vedremo dopo, la segnaletica sarà, diciamo, uno di quegli interventi che metto in atto che avrà necessità di una manutenzione. Che non vuol dire un rifacimento, ma vuol dire una manutenzione periodica. Perfetto, sto guardando l'ora, scusate, è già tardissimo. Passiamo ora alle misure tecniche. Le misure tecniche le ho suddivise in due categorie. Misure tecniche sull'ambiente di lavoro, misure tecniche sulle attrezzature che uso. Quindi io posso agire a livello di ambiente di lavoro oppure a livello di attrezzature, che è vero che sono quelle che generano l'investimento, che però possono essere dotati di sistemi molto efficaci per prevenirlo. Paradossalmente, vedremo fra un attimo, le nostre misure tecniche installate sull'attrezzatura saranno forse più efficaci di quelle installate a terra o sicuramente quelle che chiamiamo misure tradizionali. Partiamo dalle misure tecniche relative un po' all'ambiente di lavoro. Abbiamo detto barriere e protezioni fisiche. Barriere e protezioni fisiche, per me, sono da ritenersi indispensabili. Non è una questione di sarebbe meglio. Ci sono zone della nostra azienda che devono essere protette fisicamente. Ad esempio, all'uscita tra due reparti e un'uscita pedonale che si mette in un altro reparto dove c'è circolazione di mezzi, io mi aspetto che all'uscita di quella porta ci sia una barriera in modo tale che se io apro di colpo la porta non mi posso trovare all'interno di una via di circolazione, ad esempio. Oppure una separazione fisica, come vedete in immagine, di un percorso pedonale. Quali sono i vantaggi di questo sistema? E' efficace. C'è niente da dire. E' un sistema efficace. E' un sistema durabile. E' un sistema che garantisce nel tempo l'efficacia. Se pensate ai sistemi sulla destra, sono anche sistemi ottimali perché in caso di danneggiamento è possibile la sostituzione di un elemento senza andare a pensare a opere particolari. Quindi uno danneggia una porzione di barriera e sostituisce quel pezzo. Le barriere che vedete sulla destra sono barriere deformabili. Quindi pensate apposta per essere deformate, non per essere in qualche modo sradicate dal terreno come quelle a sinistra. Nessuno ci vieta di scegliere archetti o protezioni tradizionali. Ci mancherebbe altri. La soluzione di destra ha un po' questo vantaggio. E poi la manutenzione è limitata. Cioè io nel momento in cui installo una barriera fisica, non è che mi dimentico di un problema, però quasi. Nel senso che quella barriera sarà sempre lì. Bene o male, finché non la distruggo. Sarà sempre lì. Lo svantaggio è sicuramente il costo. Lo svantaggio principale è che necessito di un'installazione, ma soprattutto la poca flessibilità. Cosa vuol dire? Che io quello spazio destinato al percorso pedonale ci rinuncio per sempre. E questo magari in determinate situazioni è un problema. Perché non ha lo spazio. E quindi è estremamente invasivo. Estremamente sicuro, ma estremamente invasivo. Possiamo parlare invece di segnaletica orizzontale. La segnaletica terra. Il sistema più veloce, più economico anche se volete, per dare regole. Un sistema che è più o meno, diciamo così, efficace nel comunicare informazioni a seconda del suo stato di manutenzione. Allora, velocemente. Non voglio perdere tempo sugli aspetti, diciamo, che abbiamo già affrontato la volta scorsa. Che colore deve avere una segnaletica terra? La legge dice prevalentemente giallo o bianco. Fate quello che volete. Vi piace di più il rosso perché spicca di più sul colore di sfondo. Nessun problema. Nessuno contesterà mai questo. Perlomeno a me non l'ha mai contestato nessuno. Le dimensioni ne abbiamo parlato la volta scorsa. È chiaro che fare un percorso pedonale largo 40 cm, che giuro che l'ho visto, non ha molto senso perché va proprio oltre qualsiasi logica anche di efficacia. Vantaggio al basso costo, velocità di realizzazione, flessibilità, non mi piace la segnaletica più realizzato, cambiano i flussi, cancello la segnaletica e la ristendo in un altro modo. Tempo di realizzazione. Svantaggio? Durabilità. Se questo è un pavimento a elevata circolazione di mezzi, la segnaletica ha una durabilità limitatissima. Non sempre perché è una segnaletica che viene in qualche modo cancellata. Nella stragrande maggioranza dei casi viene semplicemente sporcata, cioè assume lo stesso colore del pavimento di fianco. Adesso non voglio farvi un corso sulla pulizia della segnaletica, ma ho fatto un anno nella mia vita a discutere di queste cose. Necessità di frequente manutenzione. Io devo entrare nell'ottica che se ho la segnaletica a terra io la devo pulire. Cioè devo trovare un sistema per ridurre lo sporco che si crea nel mio ambiente di lavoro e ogni tanto fare un'attività di manutenzione di questa segnaletica. Solitamente si fa con una mano spazzola, comunque con dei dischi prevalentemente rotanti che sono quelli che funzionano meglio. Non pensate a detergenti particolari, però serve un minimo di prodotto sgrassante. chiaramente più il prodotto aggressivo poi io cancellerò la segnaletica. Efficacia è uno strumento poco efficace nel senso che non ci garantisce il suo rispetto, in questo senso. e i costi di mantenimento. Pensate cosa vuol dire passare con una mano spazzola a chilometri di segnaletica a terra dedicando a una persona che ogni 2-3 mesi si metta a fare questo lavoro. Sono costi, non sono irrilevanti. La segnaletica è a basso costo solitamente quando è realizzata con materiale di scarsa qualità. Una segnaletica a terra di buona qualità incomincia ad avere costi significativi, però parliamo di materiale che viene posato su un pavimento che deve essere preparato. Quindi c'è una preparazione del pavimento, una posa di una segnaletica che deve essere fatta bene o male con una vernice bicomponente perché comunque deve essere una vernice che si aggrappa al substrato e deve essere trattata superficialmente o con un lucido, con un primer, comunque con un sistema che renda facile la pulizia perché altrimenti qualsiasi attività di pulizia vi va a tirar via tutto. Poi se volete vi do qualche informazione di dettaglio. La segnaletica si può integrare con dei dispositivi che possono risolverci alcuni problemi di visibilità tipo gli incroci tra due corsie. Quindi si va dagli specchi parabolici o specchi installati a soffitto o specchi installati a parete. Semplicità di installazione e il costo sono i vantaggi. Il costo, insomma, non è proprio un costo irrilevante però meno di altro. Svantaggio, l'efficacia. Perché vi invito a vedere cosa succede nello specchio a sinistra quando siete a bordo di un muletto. Sì, è vero che ho messo lo specchio ma la capacità di essere fruito non è proprio garantita. Soggetti ad danneggiamenti. Io non so come funziona nelle vostre aziende ma il problema del danneggiamento dell'infrastruttura è un grosso problema. Soprattutto dove ci sono mezzi in circolazione. Invece, non so se qualcuno di voi ha già sperimentato queste soluzioni, ci sono queste nuove soluzioni che sono sempre di segnaletica però una segnaletica fisica che viene proiettata. Quindi non è più una segnaletica applicata al pavimento ma è una segnaletica proiettata principalmente dai proiettori a led. Non è sicuramente una soluzione risolutiva per una serie di motivi. Però è una soluzione risolutiva di alcuni problemi. Ad esempio, quando nell'ambiente è estremamente complesso stendere una segnaletica a terra. Pensiamo ad esempio ad un ambito dove il pavimento, non dico che sia in terra battuta, ma è un pavimento molto sporco. Allora in questo caso può essere una soluzione risolutiva. Vantaggi, estrema modularità. Noi possiamo, a seconda del sistema che abbiamo, cambiare la segnaletica, cambiare i messaggi, rendere questi messaggi dinamici. Cioè, cambiare la segnaletica a seconda di quello che sta succedendo nel reparto. Quindi, diciamo, la possibilità sono infinite. Quindi la possibilità di utilizzo, la durabilità perché non ho più un problema di una vernice che si scolorisce e poi l'estrema personalizzazione di questo sistema. Gli svantaggi non sono piccoli. Primo problema quello dell'investimento elevato. Hanno dei costi che ad oggi sono imparagonabili rispetto a una segnaletica fisica. Sempre il problema dei danneggiamenti. Immaginatevi di riempire la vostra azienda di proiettori a led posizionati in un'altezza che per forza di cosa non potrà essere a 25 metri. Altrimenti il nostro fascio luminoso non si vede. Quindi questo è un grosso problema. Danneggiando un proiettore magari del costo di 1.500, 2.000 euro, i danneggiamenti cominciano a diventare importanti. La durabilità nel tempo e questo è un'incognita perché questi sistemi garantiscono dai 5 ai 6 ai 7 anni di funzionamento, però sono già dei tempi di ammortamento non sempre significativi rispetto al costo. E poi una cosa importante è che l'efficacia di questi sistemi è influenzata dalle condizioni di illuminamento dei locali. Quindi è vero che chi li vende proiette mari e monti, però io sono entrato in un magazzino in pieno sole con dei lucernari a soffitto, vi garantisco che si faceva veramente fatica. E questo è un dato di fatto. Infatti se vedete queste foto sono sempre o di notte o in magazzini perfettamente bui. Altro problema dell'illuminazione proiettata è che se voi avete un carico in alto, logicamente non rende più visibile l'illuminazione. Questa sarà una banalità, però se avete dei muletti che stoccano in quota è un problema serio. E poi partiamo sull'ultimo argomento che riguarda le macchine, quindi le attrezzature che io uso per la movimentazione. E vi lancio subito una provocazione, cioè la scelta dell'attrezzatura adatta, perché ci sono attrezzature che comportano non meno rischi di investimento ma magari meno danni in caso di investimento. E quindi una soluzione può essere preferire in determinati punti macchine movimentate con un uomo a terra. E questa è una soluzione, se non posso fare altro. Quindi mi permettono ad esempio la possibilità di convivenza tra pedone o tra operatore in postazione fissa di lavoro e di fatto la necessità di movimentare materiali. Chiunque di voi ha utilizzato un trasparler manuale conoscerà immediatamente gli svantaggi, quindi l'aumento dei tempi di lavoro, la poca praticità soprattutto in determinate manovre, le limitazioni di queste macchine soprattutto in caso di necessità di elevare il carico ad altezze importanti. Quindi è una soluzione non sempre facilmente perseguibile, perché comunque impatta notevolmente sui tempi di movimentazione delle merci. A volte è l'unica soluzione. Scegliamo qualcosa di più innovativo, ad esempio dei sistemi attivi per il controllo della velocità. È vero, c'è anche il banale sistema di controllo della velocità che è il limitatore, che conosciamo tutti. Il problema è che tu non mi puoi limitare a volte la velocità di un carrello a 6 km orari, perché altrimenti giustamente il responsabile della logistica mi dice a questo punto spostiamo i carichi a mano che facciamo prima. Scusate la battuta. Bisogna trovare dei sistemi che adattano automaticamente la velocità a seconda delle condizioni. C'è una marea di questi sistemi, cioè dei sistemi nei quali il carrello elevatore in qualche modo dialoga con l'ambiente in cui si trova, adattando la velocità. Questo può avvenire in sistemi più semplici attraverso dei sistemi di rilevazione basati sulla rilevazione di bande colorate. Quindi io installo sulla mia area delle bande con un preciso colore o un preciso indice di riflettività, questo sistema di rilevazione le capta e rallenta la velocità, ad esempio. Oppure dei sistemi basati su tecnologie RFID o comunque basati su sistemi elettronici. Sono efficaci perché il lavoratore riduce automaticamente la velocità o meglio non può accelerare perché il muletto rallenta da solo. Questi sistemi cominciano a vedersi nei magazzini intensivi, soprattutto all'uscita magari di una corsia di scaffalature. Non necessita dell'intervento operatore. Svantaggio. Il grosso problema è l'adattabilità alla flotta. Cioè più il sistema è invasivo sull'aspetto del funzionamento del carrello, più chiaramente questo sistema o deve essere pensato dalla fabbricante o comunque non sempre adattabile. E quindi l'adattabilità. Tenete conto che le nostre flotte di muletti, se non siamo nell'ambito logistico ma in aziende tradizionali, solitamente sono flotte vecchiote. E quindi che magari non sono in grado di supportare un sistema di questo tipo. L'affidabilità è un grosso problema perché noi stiamo parlando di dispositivi che non hanno norme di riferimento. Cioè noi siamo abituati a ragionare in termini di dispositivi di sicurezza con sistemi di ridondanza certificati e di efficacia certificata. Qui siamo nel campo del centro perdiche. Cioè non esiste nulla da questo punto di vista. Quindi chiaro uno si affida magari al prodotto sponsorizzato dal brand di carrelli elevatori, però qual è l'unico strumento? Sistemi ancora più voluti, dei sistemi che fermano il carrello elevatore quando rilevano la presenza di un pedone. Questi principalmente sono due sistemi paralleli. Un sistema basato su un ricevitore e un emettitore. Quindi o il lavoratore indossa il ricevitore, alcuni fornitori prevedono proprio dei DPI. Quindi un mio DPI che diventa intelligente, nel senso che è un giubbetto ad alta visibilità in grado di comunicare la sua presenza al carrello elevatore. Oppure dei sistemi di badge o comunque dei sistemi indossati dal lavoratore che permettono di essere percepiti dal carrello elevatore. Altro sistema invece sono delle telecamere che sono in grado anche con supporto dell'intelligenza artificiale di riconoscere e distinguere un pedone magari da un muro o da un bancale. E quindi ancora meglio perché rendono non necessario indossare qualche cosa. Strumenti efficaci, non necessitano l'intervento di operatore. Svantaggi, costi chiaramente, come sempre. Costi anche perché sono prodotti ad oggi che hanno poca domanda. Quindi c'è un mercato praticamente irrilevante. L'adattabilità alla flotta in questo caso è un problemone. Perché se io ho bisogno di un sistema come prima che modifichi il movimento del mio carrello elevatore questo sistema deve in qualche modo parlare con la macchina. E questo se non è di recente costruzione se lo scordiamo. Oppure abbiamo dei sistemi, certo che rilevano il pedone, però che non generano automaticamente un intervento sul mezzo. Però magari prevedono l'attivazione di un sensore sul DPI. Oppure la vibrazione di un DPI. Però capite che un investimento di questo genere ha senso se è blindato. Perché altrimenti non lo consiglierei. Grosso problema è la diffusione sul mercato. In particolar modo in Italia di questi sistemi che incominciano a vedersi ma sono veramente rari. L'assenza di norme o questo ve lo ridico. Stiamo parlando di un sistema di sicurezza che non ha una struttura normativa forte. E quindi chi si garantisce l'affidabilità? L'impatto sull'operatività questo è un problema. Perché se io ho un sistema che blocca il carrello elevatore quando un pedone è nel raggio ad esempio di 3 metri, e guardate che 3 metri a livello di spazi di arresto è già tanto, ma a livello di spazi di movimentazione di un muletto, fateci caso, noi passiamo a volte a mezzo metro da un carrello elevatore, questo ha degli impatti sull'operatività pazzeschi. Cioè paradossalmente dove questo sistema sarebbe più utile, ovvero dove gli spazi di movimentazione sono ristretti, è proprio nell'ambito nel quale questi sistemi non riesci ad utilizzarli. Perché comunque ti renderebbero impedito il movimento, con il risultato che mi immaginate bene. Faccio un investimento incredibile per poi trovare il carrellista che lo disabilita. Oppure, sempre parlando di misure tecniche, dei sistemi che aumentano la capacità del conduttore di vedere ostacoli, dagli specchi che conosciamo da almeno 50 anni, mi raccomando se li scegliete sempre degli specchi fissi, possibilmente perché specchietti orientabili su un muletto a me fanno sempre venire l'angoscia, hanno degli angoli ciechi mostruosi, oppure dei sistemi a videocamera. I vantaggi sono il costo, la facile adattabilità, l'affidabilità e la semplicità d'utilizzo. Lo svantaggio, l'efficacia. E poi abbiamo dei sistemi, un'altra strategia, la segnalazione ottica acustica. Il cicalino di retromarcia ormai lo consideriamo un must, oltre al cicalino di retromarcia che ha un grosso problema, che genera facilmente il suono del cicalino e viene facilmente mascherato. Per un lavoratore sempre presente in un contesto di lavoro circondato da cicalini che suonano, quel suono lì ha poco significato e dopo un po' diventa un suono sostanzialmente che fa parte del tappeto sonoro dell'azienda. Quindi lo rende purtroppo a volte inutile. Quindi da questo punto di vista una segnalazione ottica può essere più utile. E qua si va da la segnalazione che vedete sulla sinistra di un'area pericolosa che si muove con il carrello. Sono verdi quei muletti, però si si vede anche la marca non lo possiamo dire. Oppure i cosiddetti blue spot, quindi dei punti blu che si muovono con il carrello. Vantaggi, costi limitati, ormai sono interventi secondo me da considerare standard. Non stiamo parlando di master, stiamo parlando di seduzioni standard. Secondo me un carrello elevatore in un contesto dove sono rischi di investimento senza un sistema di questo tipo non ha più ragione di essere, anche per il banale costo che è limitato. L'adattabilità alla flotta è semplice. Si tratta di avere una connessione elettrica sostanzialmente. L'affidabilità e la semplicità. Lo svantaggio, chiaro che è un sistema che è efficace solo se viene visto. L'ultimo sistema che è quello che nel 99% dei nostri DVR è l'unico sistema, è il DPI. L'indumento data visibilità. In caso di rischio di investimento, la soluzione è indossare. Va bene. Vantaggio, costo, si può dire risorgio, semplicità d'uso, va bene. Svantaggio, io ho messo una cosa, che se questi dispositivi li volete gestire seriamente dovete lavarli. E dovete lavarli come? In un'azienda che vi garantisce il mantenimento dei colori e della riflettività delle bande. E questo incomincio ad essere un impegno. Quindi il costo alla lunga di questi DPI non è proprio irrilevante. Il discomfort, cioè pensare a persone che oltre all'indumento di lavoro devono indossare anche un altro indumento in materiale plastico in periodo estivo, questo capite già che può essere un problema. È vero che esistono sistemi di questo tipo integrati negli momenti di lavoro, però c'è sempre il problema del lavaggio. E poi dall'efficacia. Tutto sommato sono soluzioni, tra virgolette, non obsolete, perché in alcuni casi sono le uniche soluzioni che ho. Sto lavorando a bordo autostrada alle tre di notte, questo può essere una soluzione necessaria. In un'azienda certamente necessario, però a protezione di rischio di sì. Bene. Allora, io ho sporato, scusatemi, di nove minuti, ma mi sono lasciato prendere, anche perché probabilmente avevo più cose da dire oggi. Esiste un sistema che funziona da solo? No. Tutte le soluzioni che vi ho dato andranno integrate in una gestione integrata di questo rischio. Bene. Grazie Matteo e mi sento di condividere. Tu hai iniziato la tua presentazione dal piano della viabilità, proprio per dire prima bisogna ragionare sul caso specifico e poi scegliere le misure più adatte. Quindi ti ringraziamo tanto perché ci hai fatto un excursus di quelle che sono le misure, in modo che uno possa cominciare a fare quel piano avendo sotto di sé le possibilità da adottare e poi chiaramente cambieranno di caso in caso. Allora, prima di tutto ti ringrazio per questa tua presentazione per l'altra volta e grazie ancora e niente da dire. È stato proprio molto interessante. Grazie davvero. Grazie a tutti.